Questa è la storia di un uomo che si riteneva superiore a Wolfram, ma che invece finì sconfitto e per ridimensionare il suo grande ego. Tutto è cominciato con questa serie numerica. Se non sapete cos'è una serie numerica, è semplicemente una somma infinita di tanti termini di una successione, ovvero di un'espressione in cui compare una variabile che è sempre e solo un numero intero. Ad esempio, quando studio la serie di un mezzo alla n, sto scrivendo in modo compatto una somma infinita di un mezzo alla numero intero via via diverso. Prima di andare avanti, facciamo una premessa per quelli meno abituati. Che senso ha fare una somma di infiniti termini? Non darà sempre infinito come risultato? Beh no, a volte potrei avere un numero finito. Ad esempio, proprio la serie di un mezzo alla n che abbiamo fatto vedere prima ha come risultato di questa somma 1. 1? Cioè non solo un numero finito, ma addirittura un numero così piccolo? Beh sì, non è così strano se ci pensate. Prendiamo ad esempio un righello di lunghezza 1 metro e dividiamolo a metà. E poi ridividiamo una delle metà in un'altra metà e continuiamo il processo ancora e ancora ancora fino all'infinito. Ho diviso il righello in infiniti termini piccolissimi, ma poi se li vado a risommare ovviamente riottengo il numero intero. In questo modo ho appena svolto la sommatoria di un mezzo alla n e ho ottenuto come somma ovviamente 1, cioè la lunghezza del righello originario. Si dice in gergo che quella serie converge a 1 e capita spessissimo nello studio di questi operatori. Ovviamente può anche accadere che la serie diverga, cioè che tenda all'infinito e questo accade per esempio per la somma di tutti i numeri interi, quindi la sommatoria di n. Non da diretta a Ramanujan che diceva che la somma faceva meno un dodicesimo. Noi ora qua non parliamo di Ramanujan. Ora, ritornando alla mia investigazione, quello che ci interessa è questa specifica serie, che viene chiamata serie armonica, ed ha delle proprietà diverse in base al valore della x che fisso come esponente. Infatti, se pongo x minore o uguale a 1, la serie sicuramente diverge, quindi il risultato di quella somma sarà infinito. Mentre invece se la pongo maggiore di 1, la serie converge e quindi la somma mi darà un valore finito. Non è importante ora che cosa converga, il più delle volte neanche possiamo saperlo, al massimo sappiamo che se poniamo x uguale a 2, il risultato della somma è pi greco quadro sesti e questa è la famosa identità di Basel. Ma parliamo d'altro. Quello che ho chiesto a Wolfram un sabato sera, in cui ero evidentemente troppo annoiato, è stato di farmi il limite di questa serie per x che tende a 1 più e meno. Se non conoscete il gergo, sappiate che il limite è semplicemente un operatore che studia il comportamento di una funzione quando la x si avvicina a un certo numero, in questo caso 1. Il più o meno che vedete all'esponente indica che posso fare fino a due limiti, il limite per x che tende a 1 più, cioè in pratica studio cosa succede quando al posto di questo esponente metto numeri più grandi di 1, ma sempre più vicini a esso, oppure il limite a 1 meno, cioè quando invece metto numeri più piccoli di 1. Apparentemente mi sembrava un'operazione facile da far svolgere a Wolfram, dopo tutto se qua metto numeri più grandi di 1 la serie converge, mentre se metto numeri più piccoli diverge, come da regola. Eppure questo limite ha rotto tantissimo Wolfram, non solo il limite da destra, quello con numeri più grandi di 1, è infinito, ma quello da sinistra viene meno infinito? Come è possibile? Dai doveva essere per forza sbagliato, e quindi ho richiesto la stessa operazione con la versione smartphone di Wolfram. E niente, il limite a 1 meno dà un undefined un po' più confortante del risultato di prima, ma quello a destra rimane comunque infinito. Come fa tutto questo a essere possibile? All'inizio ero totalmente confuso, e mi sono arrabbiato un sacco con Wolfram per avermi dato dei risultati così strani. Ci ho pensato e pensato per giorni, e ho persino chiesto a Reddit una mano, in un post di cui poi parleremo tra poco. Ma poi, alla fine, ho avuto l'illuminazione e ho capito. Ho capito che Wolfram aveva ragione fin dall'inizio, e che ero io nel torto. Per avere un'idea del perché, è essenziale capire fino in fondo che cosa fa il limite di una funzione. Come ho detto prima, questo operatore studia il comportamento di una funzione quando ci avviciniamo a un certo punto. Qui non dobbiamo vederla come una cosa statica, ma dinamica. Quando vogliamo vedere cosa accade a 1 o più, stiamo rimpiazzando ogni volta numeri sempre più simili a 1, ma comunque grandi. Quindi si vede quello che accade in 1,1, 1,01, 1,001 e così via. E poi si fa una predizione. Poiché per numeri sempre più simili a 1 il risultato è sì convergente, ma comunque via via più grande, allora la corretta predizione da fare è che il risultato di questo limite tenderà all'infinito, ma la mano che scelgo numeri sempre più vicini a 1 da destra. E quindi almeno questo risultato è comprensibile se si utilizza un pochino più di brain power. Ma che dire del limite a 1 o meno? Beh, il ragionamento è lo stesso. Soltanto che per ogni punto con cui sostituiamo la x più piccolo di 1, quindi 0,9, 0,99, 0,999 e così via, il risultato sarà sempre e solo infinito. Non nel senso di prima che mi sto avvicinando all'infinito, ma ogni volta avrò letteralmente infinito. Quindi in pratica questa funzione si comporta come una normalissima funzione che possiamo chiamare s di x, cioè somma dipendente dal valore di x che io inserisco, quando x è maggiore di 1. E poi si comporta come letteralmente infinito per x minore o uguale a 1. E quindi l'undefined non sembra più essere un errore, perché arriviamo al cuore del problema. È lecito fare il limite di una funzione che si comporta sempre e solo come infinito? Possiamo dire che il limite di una funzione del genere per x che tende a 1 o meno farà comunque infinito? Alcuni di voi potrebbero non vedere il problema in una domanda del genere e pensare che dopo tutto sì, il limite fa comunque infinito, perché abbiamo ottenuto sempre e solo questo risultato per ogni valore delle x più piccolo di 1. Beh, per capire il senso della cosa, rendiamo il tutto un po' più concreto. Vi ricordate l'esempio del righello? Ecco, immaginate che il risultato di questa serie, ogni volta che al posto di x metto un numero, sia la lunghezza di un generico righello. Quindi ad esempio quando x uguale a 2, quella somma rappresenta la lunghezza di un righello lungo π quadro sesti. Mano a mano che ci avviciniamo a 1 da destra, come abbiamo detto prima, la lunghezza del righello sarà finita ma sempre più grande e quindi la corretta previsione da fare è che il righello tenderà a una lunghezza infinita da destra, mentre invece da sinistra ogni volta il righello ha una lunghezza infinita. State attenti, qua non stiamo dicendo che i righelli hanno tutti la stessa infinita lunghezza, perché qui il concetto stesso di lunghezza smette di avere un senso. La lunghezza di un segmento, infatti, è definita come la distanza fra i suoi due estremi. E mentre una lunghezza che tende a infinito indica semplicemente che gli estremi si stanno allontanando fra di loro, una lunghezza uguale a infinito indica che gli estremi non esistono proprio e quindi capite che il calcolo della distanza perde di significato. È come se vi chiedessi di fare il limite per x che tende a 1, di nuovo, di 0 su 0. Non possiamo dire che siccome la x non compare, allora il risultato sarà 0 su 0, perché 0 su 0 non è una grandezza costante, non è proprio una grandezza, e quindi quel limite non esiste perché quell'espressione non esiste. Ha senso quindi studiare il limite di una grandezza insensata? Capite quindi che la domanda non è così scontata, se il limite esiste o meno. Per me già solo il fatto di potersi fare queste domande è fantastico. I miei problemi di matematica preferiti, infatti, non sono quelli che spiegano un concetto con una formula, ma al contrario, quelli che spiegano una formula che apparentemente è controintuitiva, grazie al ragionamento, al contesto, insomma alla filosofia. E infatti, per risolvere questo problema, abbiamo bisogno di scavare nella teoria degli insiemi. Infatti, riformuliamo il tutto con questa domanda. L'infinito è un numero reale? Qualcuno potrebbe dire di sì. Dopotutto, l'insieme dei reali include tutti i possibili numeri. Comunque, la risposta è un rigoroso no. Infatti, affinché un numero appartenga a un certo insieme, deve rispettare delle regole. Un insieme, infatti, è definito proprio in virtù delle operazioni che i suoi elementi sono in grado di fare. E se un'operazione non può essere fatta con un certo elemento, quell'elemento non appartiene all'insieme che permette quell'operazione. Per intenderci, quindi, l'infinito non è parte di numeri reali perché non rispetta proprietà come, ad esempio, la legge dell'annullamento del prodotto. In realtà, ci sono dozzine e dozzine di pagine e articoli che provano che infinito non fa parte dei numeri reali. Ma io, in particolare, mi voglio concentrare su questo giga chad che si è preso del tempo non solo per leggere il mio post su Reddit, ma anche di rispondermi. E infatti lo ringrazio ancora tanto per questo. User Anchen, infatti, dice Immagino che la tua domanda sia è possibile avere come funzione di variabile reale f di x uguale infinito? Sì, è esattamente quella la mia domanda. La risposta è un po' complicata. Dipende dalla definizione di insieme. Nel modo canonico che abbiamo di definire l'insieme dei numeri reali, r non include infinito perché l'infinito rompe le proprietà dei soliti operatori, come moltiplicazione e divisione. Quindi nel caso usuale f di x uguale infinito è incorretto perché f in quel caso sta prendendo un valore che sta al di fuori dell'insieme dei reali. Ora però ridefiniamo il nuovo insieme, r unito a meno infinito infinito. Per ogni funzione f con valori in questo set, f di x uguale infinito è perfettamente corretto. Ma quindi, alla fine, qual è il risultato di questo limite? La risposta è che... Dipende! Come è stato spiegato, per fare il limite di una funzione reale dobbiamo ridefinire l'insieme di numeri reali perché nel senso canonico a cui siamo abituati la funzione serie armonica deve ridurre di tantissimo il suo dominio cioè esisterà soltanto per x maggiore di 1. Ma se invece stendiamo l'insieme di numeri reali, come ha spiegato Anchen non ci sono problemi a considerare la serie come una funzione a scala. In quel caso, comunque, la funzione assumerebbe dei valori che sono all'interno del dominio di definizione. È un po' come la funzione radice di x. Questa non esiste per x minore di 0 perché se sostituissi al suo posto meno 1 otterrei un valore che è al di fuori dell'insieme dei numeri reali. Ma se lo estendo all'insieme dei complessi la funzione radice di x esiste per ogni valore dei numeri complessi. Qui è la stessa cosa ma anziché tirare in ballo l'unità immaginaria per estendere il dominio basta aggiungere il concetto di letterale infinito. Quindi sì, questo tanto agognato limite in questo nuovo insieme esteso vale infinito. Anche se io sono molto più per la versione tradizionale dell'insieme dei reali. Trovo molto più affascinante l'idea che il limite non esista e che non ci siano formule equazioni in grado di spiegare questo risultato e che la nostra unica arma a disposizione sia filosofeggiarci su. Infatti ragazzi, mettetevi nei miei panni per un attimo. Sono partito dallo studiare un semplice limite per incasinare Wolfram e sono finito a discutere sul dilemma filosofico del se includere o no infinito dell'insieme dei numeri reali. Qui mi sono sentito come un vero matematico che quando studia un certo argomento finisce con lo scoprire connessioni su argomenti che apparentemente non c'entrano nulla col topic iniziale. Quindi grazie Wolfram per avermi fatto scoprire un limite che può essere risolto solo se ridefiniamo l'insieme dei numeri reali e per aver dimostrato che né tu né la matematica eravate rotti ma che lo sono sempre stato io fin dall'inizio. Per concludere, qual è la morale di questo video? Ci sono almeno tre messaggi che voglio mandarvi. Uno, rendi la matematica divertente. Cerca sempre quei problemi che solleticano le sinapsi e che ti fanno urlare un bel ha dopo che le hai risolti. Due, fatti stupire dalla matematica. Io veramente non riuscirò mai a descrivere la bellezza che trovo nel vedere collegamenti tra argomenti totalmente diversi fra loro come in questo caso lo studio delle serie e la teoria degli insiemi. E tre, a proposito di insiemi, non sottovalutare le lezioni sugli insiemi che, siamo onesti, saltiamo tutti quando iniziamo i nostri corsi di analisi. Non puoi mai sapere se troverai un problema che può essere risolto proprio grazie a quegli appunti. Ciao!